Un tempo la notte era fatta per dormire, sonni calmi e approfondi, e svegliarsi poi senza terrori. Ma questa è l'ora peggiore. Sai come si chiama? No. Il popolo la chiama cura del lupo, è l'ora in cui molta gente muore, e molti bambini nascono, e quando gli incubi ci assalgono, e se restiamo svegliati, mi hanno paura. Sì, paura. Cos'hai? Ah, niente, ho ripensato a una cosa della mia infanzia, a una punizione che mi avevano inflitto. Mi spinsero dentro a un ripostiglio, chiudendo la porta. Intorno a me era il buio. Mi sentivo terrorizzato. Davo pugni e calci alla porta. Vedi, mi avevano detto che un nano si nascondeva e viveva in quel ripostiglio. Un nano che rosicchiava le dita dei piedi ai bambini cattivi. Un nano che rosicchiava le dita, e se rinforzato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.